Per gli speciali di Narsa Times in questo appuntamento di pugno chiuso dedicato ai valori della professione infermieristica sia nell'università che nella professione e ovviamente nello sviluppo della professione a livello proprio di giovani infermieri, la seconda giornata è stata dedicata alle responsabilità e le tutele professionali non soltanto probabilmente degli infermieri ma nel caso specifico di quello stiamo parlando ma delle professioni sanitarie. Con noi l'avvocato Roberto Toscano che è giuslavorista che sul tema ha analizzato gli aspetti della legge Gelli Bianco che è quella che ha definito le nuove responsabilità per i professionisti sanitari. Però nel suo intervento avvocato la prima cosa che ha evidenziato è che quella legge subito dopo la sua entrata in vigore è stata in parte smantellata. Era una cattiva legge? Era scritta male? O cos'è accaduto? L'obiettivo della legge è quello di dare una definizione, di dare delle certezze agli operatori sanitari, medici, infermieri in primis. Dare delle certezze dei dati di riferimento semplici, certi, per sapere quando si incorre in responsabilità ad iniziare dalla responsabilità penale. Bene, sotto questo aspetto mi riferisco alla responsabilità penale appunto si era pensato di stabilire, di trovare una soluzione attraverso l'inserimento di una nuova norma nel codice penale che valorizzasse per una situazione particolare di colpa, la colpa da imperizia, il rispetto o meno delle linee guida o in mancanza di queste, delle buone pratiche assistenziali. Il senso era quello di dire si risponde quando c'è una responsabilità penale secondo i criteri generali dell'accertamento della colpa e quindi della responsabilità né seziologico e quant'altro, però diversamente da altre situazioni di esercizio di professioni allora quando l'evento si è verificato per imperizia ma si sono osservate le linee guida o le buone pratiche assistenziali si va esenti da responsabilità. Ecco, questa norma non ha funzionato, da subito non ha funzionato al punto che sono intervenute nello stesso anno della legge due sentenze contrastanti della Corte di Cassazione l'uno ha detto questa norma non serve a nulla perché anzi non ha senso perché se si sono rispettate le linee guida evidentemente non c'è proprio colpa da imperizia e l'altra che invece ha detto l'esatto contrario, dice no, quella è una norma che ha una funzione di attenuare le responsabilità per gli esercenti della professione sanitaria per dare maggiore tutela contro rappresaglie ingiustificate da parte dei cittadini e degli utenti le sezioni unite hanno cercato di dare, nel tentativo di dare un senso e anche un rispetto in termini di costituzionalità a questa norma, hanno disegnato un nuovo statuto delle responsabilità per cui hanno detto in estrema sintesi, si risponde sempre sia per colpa grave che per colpa lieve e anche quando si sono rispettate le linee guida, quando c'è una colpa da imprudenza o da negligenza se c'è una colpa da imperizia, anche in quel caso si risponde se non ci sono rispettate le linee guida oppure se le linee guida proprio non esistono o quando le linee guida sono state scelte e applicate a un caso che per le sue particolarità richiedeva che le linee guida non fossero applicate in quel caso, infine nel caso in cui le linee guida sono state scelte correttamente ma poi nella fase esecutiva si è verificato qualche problema, in un segmento della fase esecutiva delle linee guida c'è stata lì l'errore da imperizia e in quel caso si risponde anche se soltanto per colpa grave. Questo è il nuovo, un autentico, nuovo statuto delle responsabilità che le sezioni unite a febbraio, tra dicembre 2017 e febbraio del 2018 con le motivazioni che sono state pubblicate ha disegnato dandoci e dando agli operatori, ma anche agli operatori di giustizia che poi valutano queste situazioni, uno statuto incisivamente diverso da quello che sembrerebbe risultare dal testo scritto della legge bianco probabilmente uno statuto che prelude ad una nuova normativa più articolata in materia di responsabilità dell'esercizio della professione sanitaria. Il rischio qual era? Quello di punire eccessivamente gli operatori delle professioni sanitarie? No, semmai il rischio era il contrario, era che un'interpretazione troppo generosa della legge Gelli attenuasse i livelli di responsabilità dell'operatore sanitario al punto da inficiare due principi fondamentali della Costituzione. Il primo, quello della tutela del bene salute, l'articolo 32 della Costituzione e il secondo, il principio di parità. Per quale ragione il professionista sanitario dovrebbe essere meno responsabile penalmente di altri professionisti, tipo l'ingegnere che costruisce un ponte che esercitano un'attività comunque complessa e che rispondono per imperizia a titoli di colpa anche gli ere e anche se hanno rispettato magari i protocolli tecnici in circolazione. Questo è il quesito ed è la preoccupazione che ha portato le sezioni unite a cercare di modulare, di limitare la portata della causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli. Un'ultima riflessione invece la facciamo sul codice deontologico perché si è parlato anche di questo nella seconda giornata dei lavori e lei ha lanciato un invito alla platea, al mondo infermieristico cioè quello di leggerlo con attenzione, il codice deontologico perché non è una enunciazione di principio o meglio, non è soltanto un'enunciazione di principio ma è una sorta di recinto nel quale è possibile muoversi nell'ambito professionale. Vede, noi giuristi diciamo che le norme deontologiche hanno una valenza giuridica non soltanto all'interno dell'ordine quindi della classe delle persone, dei professionisti interessati da quell'ordine ai fini dei procedimenti disciplinari e quant'altro ma hanno una valenza giuridica anche al di fuori e ce l'hanno soprattutto laddove le norme dell'ordinamento generale pongono delle norme in bianco si dicono cioè delle norme generali non specifiche di atti, comportamenti, omissioni da tenere regole di prudenza, regole di negligenza, regole di perizia sono concetti che hanno un elevato tasso di genericità e che vanno riempite di contenuti nel caso per caso ecco, le norme del codice disciplinare riempiono, contribuiscono, non soltanto esse contribuiscono a riempire di contenuti specifici già questi principi i principi di prudenza, di diligenza, di perizia gli obblighi di prudenza, diligenza e perizia tant'è che io ho detto poco fa agli amici operatori sanitari che la prima linea guida da seguire è proprio il codice diontologico io ringrazio l'avvocato Roberto Toscano grazie per averci seguito in questo speciale questi appuntamenti speciali che stiamo realizzando in occasione del congresso infermieristico di Pugno Chiuso grazie per aver guardato il video